Tanto tuono che piove, è vero, è così, tuona e poi alla fine piove, ma in Italia dove tutte le cose cambiano, nella Repubblica dei Fagiolini è difficile che tuona e poi piove. La dimostrazione è tutto il gran parlare che si è fatto in questi giorni dello Spending Review con Beatitudine Mario Monti che aveva chiamato altri tecnici per capire dove si può allimare per spendere di meno, tutti preoccupati per gli ospedali che chiudevano, per la sanità che veniva tagliata, per i posti nei comuni e nelle regioni che venivano tagliate. In realtà non è successo assolutamente nulla, nel momento in cui viene presentata questa grande riforma della Spending Review, ci accorgiamo che nulla cambierà. Già, perché a conti fatti, ad esempio prendendo l'Umbria, il comune di Perugia, il comune di Terni, il comune di Orvieto, il comune di Forigno, il comune di Spoleto, non ci sarà un posto che viene perso, meno male, grazie a Dio dovremmo dire. E allora ci chiediamo, ma dove sono allora? Se già tante volte ci siamo scandalizzati per l'alto numero dei dipendenti che avevano i nostri uffici comunali, dove saranno gli altri sprechi? Quali saranno le altre amministrazioni che hanno gli sprechi? Tanto tuonò che alla fine non piove. Questo accade nella Repubblica dei Fagiolini, della nostra Italia, dove si condanna l'imprenditore che reagisce per legittima difesa, ma il giudice dice eccessiva legittima difesa. Dopo dieci volte che ti vengono a rapinare, dopo dieci volte che ti vengono a rubare dove tu vivi e lavori, se alla fine perdi la testa e spari contro due balordi, non lo puoi fare, devi pagargli il risarcimento. Non 500 mila Euro, come avevano detto, ma 120 mila Euro a questi due poveri Roma che erano andati lì con l'espresse intenzione di andare a rubare, ma tu devi lasciarli rubare se non ti intimidano, se non sono minacciosi, se rubacchiano senza darti fastidio, non ti puoi esacerbare e sparargli addosso. Questa è la Repubblica dei Fagiolini, la nostra meravigliosa Repubblica dei Fagiolini dove tutto cambia per non cambiare nulla. Beatitudine Monti ha deciso di mettere mani dappertutto, le pensioni, i pensionati, gli operai, l'articolo 18, la riforma del lavoro, gli avvocati, i notai, i tassisti, farmacie, tutto ciò che è da metterci le mani. Una, una sola cosa dove non ha messo le mani è nella casta dei politici, maiale il mondo se gli ha tolto un Euro ad ognuno di loro. È questa, la Repubblica dei Fagiolini e tanto perché siamo in termini di Repubblica dei Fagiolini, Rolando Chiaraluce che è un incisore che fa quadri come questo bellissimi, lo faccio vedere, è per i 150 anni della proclamazione dell'Unità d'Italia, con il tricolore verde, bianco e rosso. A pensare che in questi giorni di europei ho visto disegnare la bandiera italiana su facce, dorsali, petti, natiche, gambe e cosce in una maniera terribile. Siamo italiani, non siamo ungheresi, si comincia con il verde, poi il bianco e poi il rosso. È già difficile essere italiani, è ancora più difficile essere appartenenti alla Repubblica dei Fagiolini, ma diamine, perlomeno cerchiamo di esserlo con onore e con i corretti colori della bandiera tricolora. Nonostante tutto, la mia più cordiale buona serata.